Grazie a tutti. Perché, per parlare di matriarcato, nonostante la quantità di validi testi scritti da donne, partiamo da Bachofen? Beh, perché è a questo storico ottocentesco che si rifanno quelli contemporanei maschi e femmine che gradiscono di più la O finale, per negare l'esistenza di un'epoca matriarcale, sostenendo che l'ha inventata lui nel suo libro Il Matriarcato del 1861, e che le femministe hanno dato corpo a tale teoria perché legittimava le loro rivendicazioni. Intanto, chiariamo bene che non solo le femministe si appassionarono al lavoro di Bachofen, bensì anche esponenti della sociologia, psicologia, socialismo, nazismo, antifascismo, femminismo, antifeminismo e della letteratura e dell'arte in genere. Inoltre, chi sostiene che non ci sono prove storiche dell'esistenza di società matriarcali, ignora volutamente l'enorme quantità di prove archeologiche, antropologiche, etnologiche, sociologiche, fornite a partire dagli anni settanta, riguardo all'esistenza reale e innegabile di società matriarcali passate e presenti. Negare questa eredità, concreta e tangibile, solo perché non esistono prove scritte, ma solo incisioni, petroglifi, pittogrammi, decorazioni di ceramiche e soprattutto le statuette, ben sapendo che la scrittura è un'invenzione recente della storia umana risalente al 3000 a.C. circa, è negazionismo puro di tutto ciò che è esistito prima, ossia dal paleolitico in poi. Il sistema mediatico si serve di studiosi divenuti noti personaggi televisivi al fine di mantenere in vita, attraverso la sottile tecnica dell'irrisione, il concetto dell'inferiorità biologica, intellettuale e artistica delle donne, la medievale querelle des femmes, di cui la nostra civiltà androcentrica è tuttora impregnata. Il mainstream, poi, recluta accademiche e politiche femministe che, in maniera indiretta e occulta, il regime androcratico e androcentrico lo sostengono. Note femministe, presenti e passate, hanno negato l'esistenza del matriarcato, proprio adducendo a motivazione il lavoro di Bachofen e sostenendo che fu una sua invenzione. Una per tutte è Simone de Beauvoir, che in Il secondo sesso sostiene che è stato il potere delle figure mitologiche di Niobe, Medea, Andromaca o Ecuba a farci supporre, scrive, che esistesse nei tempi primitivi un vero regno delle donne. È l'ipotesi proposta da Bachofen, ma in realtà quest'età d'oro della donna non è che un mito. Simone de Beauvoir afferma senza mezzi termini che la società è sempre stata maschile e così pure il potere politico, il che sarebbe in netto contrasto con il ritrovamento di migliaia di statuette raffiguranti la grande Dea Madre Neolitica e non solo da parte dell'archeologa Maria Gimbutas negli anni Ottanta. Vero è che i libri sulle civiltà matrifocali di Maria Gimbutas sono una produzione successiva a Il secondo sesso di Simone de Beauvoir, che è del 1949, ma Momolina Marconi, docente di storia delle religioni e studiosa delle civiltà matrilineari, pubblicava articoli specialistici sia in italiano che in francese proprio contemporaneamente a Simone de Beauvoir. Possibile che Simone non conoscesse gli studi di Momolina? Nella enorme quantità di materiale documentale che ha consultato per il secondo sesso, tra cui l'opera Il matriarcato di Bachofen, che aveva già cent'anni, non ha preso in considerazione né Momolina né Maria Gimbutas, che nello stesso periodo pubblicava i suoi primi libri sul folclore lituano? Vero anche che Simone si dichiarava atea, ma questo le proibiva forse di prendere in considerazione materiale archeologico riferito a una cultura all'epoca definita pagana? Quando gli storici sostengono che sono state le femministe a dare corpo e volume alla cosiddetta invenzione del matriarcato ad opera di Bachofen, a quali femministe si riferiscono? Una versione sostiene che la parola fu utilizzata per la prima volta nel Settecento dal filosofo francese Charles Fourier, ispiratore delle prime comunità del socialismo utopico. Un'altra versione che la parola femminismo fu usata per la prima volta nell'Ottocento in forma dispregiativa da un giornalista, come la parola suffragette affibbiata con lo stesso intento dispregiativo alle donne che combattevano per il voto. Un'altra versione ancora afferma che il termine femminismo già si usava in ambito scientifico nell'Ottocento per indicare uomini con problemi di virilità. C'è chi sostiene che la nascita ufficiale del movimento femminista sia avvenuta in America nel 1848 allo storico congresso di Seneca Falls sui diritti delle donne, nel quale fu chiesta la cittadinanza politica per neri e donne, appunto. E chi dice che nacque sì nell'Ottocento ma in Inghilterra per dare un nome al movimento delle suffragiste. Si crearono poi nel Novecento due correnti in contrasto tra loro. Da una parte quella politica, atea e razionalista, con cui si identificavano Virginia Woolf e Simone de Beauvoir, che considerava le mestruazioni e la maternità come una maledizione che condannava la donna al suo ruolo di schiava della riproduzione. Questa corrente si legò poi alla sinistra politica più o meno reale. Dall'altra parte, la corrente antropologica, legata alle scoperte archeologiche di Maria Gimbutas e delle antropologhe Heide Goetner-Abendroth e Riane Eisler, che invece dà alla maternità un valore sacro collegato alla Dea, più in risonanza con la trattazione di Bachofen. Insomma, non si può dire con certezza quando nacque ufficialmente il movimento codificato che identifichiamo con la parola femminismo, ma se per femministe intendiamo le donne che hanno combattuto per i più elementari diritti negati loro dal patriarcato, Allora possiamo risalire al V secolo, quando la scienziata Ipazia di Alessandria fu assassinata per non aver accettato di rinunciare all'insegnamento, obbedendo alla nuova legge misogine e repressiva di Paolo di Tarso, abbracciata dalla Chiesa delle Origini. Oppure a Christine de Pisan, che nella seconda metà del 1300 scrisse La città delle dame e osò far causa ai debitori del marito morto perché si rifiutavano di saldare a lei in quanto donna. E così via, pensiamo a Olemme de Gouges e Mary Wollstonecraft, autrici delle prime dichiarazioni dei diritti delle donne nel 1700, ad Anna Wheeler, che allora ispirata riprese l'argomento all'inizio dell'Ottocento. Pensiamo all'opera di donne che, pur non definendosi femministe, hanno lottato per la nostra libertà e parità, come Millicent Fawcett, Emmeline Pankhurst e la Women, Social and Political Union, che con una battaglia durata decenni riuscirono a far avere alle donne non solo il diritto di voto, ma la possibilità di possedere una casa e un patrimonio, di gestire la loro dote, di avere giurisdizione sui figli e di poter contare su una pensione. Tutte cose che all'universo maschile appaiono ovvie e scontate. Eppure al tempo in cui Emmeline e le sue figlie andavano in prigione per i diritti delle donne, non c'è neppure sicurezza che la parola femminismo fosse già stata utilizzata. E poi l'italiana Cristina Trivulzio di Belgioioso, che senza definirsi femminista, partecipò e finanziò di sua tasca i movimenti risorgimentali. Dunque, a chi ci si riferisce quando si tira in ballo il femminismo? E perché le donne sono state costrette a lottare da millenni per poter semplicemente essere considerate delle persone con pari diritti a quelli degli uomini, se non perché avevano memoria di un tempo in cui quei diritti li avevano avuti? Naturalmente questo nostro video è solo una goccia nell'oceano al quale verrà accordata scarsissima visibilità mediatica, poiché il sistema mediatico sostiene il regime androcratico mondiale che ha tutto l'interesse a continuare a irridere l'esistenza, ancorché straprovata, della civiltà matrifocale e matrilineare prepatriarcale. Noi della Scuola delle Donne volevamo vederci più chiaro e abbiamo deciso di leggere per intero l'opera del 1861 Il matriarcato o il diritto materno di Johann Jakob Bachofen. Cominciamo dunque analizzandola con tutti i suoi limiti. Innanzitutto, Bachofen non usa la parola matriarcato, bensì civiltà ginecocratica, che significa guidata dalle donne. La parola matriarcato deriva dall'espressione diritto materno, Mutterrecht, ovvero il diritto naturale originario, che era anche il primo titolo del libro. Bachofen comincia appunto riportando l'esempio delle genti cretesi che usavano l'espressione terra materna anziché patria. Scrive Ovviamente l'opera ha i limiti che ci si aspetta, in una visione patriarcale del matriarcato, essendo stata scritta da un uomo, pur con le migliori intenzioni, che non riesce però a sganciarsi dall'idea che tutto ciò che è ectonio, tellurico e basso sia inferiore a ciò che è celeste e alto, che la maternità sia selvaggia e materiale mentre la paternità civile e spirituale e che il passaggio da matriarcato a patriarcato sia da collegare a una evoluzione spirituale dell'umanità e a una maggiore purificazione degli istinti e non come è stato provato dall'archeologia dalle invasioni dei guerrieri mongoli e caucasici che hanno attuato tale sostituzione con la violenza e non con la purificazione. Inoltre, Bachofen collega il principio femminile alla luna e parla di primato nelle società ginecocratiche della notte oscurità a grembo materno sul giorno, non tenendo conto o non sapendo del lungo periodo di storia in cui la dea era androgine e solare. Con la terra, scrive, è identificata la notte, la più antica divinità concepita come madre e potere ctonio e connessa alla donna. Invece, il sole fa alzare lo sguardo alla contemplazione dello splendore della forza virile. L'astro diurno fa vincere l'idea della paternità, scrive Bachofen, e sostiene inoltre che nelle società ginecocratiche veniva data maggiore importanza al lato oscuro della morte anziché al lato chiaro della crescita naturale, al morto anziché al vivo, al lutto anziché alla gioia. E anche questa è un'errata interpretazione patriarcale. Infatti, il concetto di morte associato al lutto e all'oscurità nella cultura ginecocratica non esisteva. La morte non era per nulla un fatto lottuoso né definitivo, ma un semplice passaggio ad un'altra dimensione in attesa di tornare nel mondo fisico. L'espressione diritto materno, scrive Bachofen, è nuova. È un mondo nuovo e la più originaria norma di vita, una fase di civiltà sepolta o superata. Riporta Erodoto che il popolo dei Lici non dava il nome paterno ai figli, ma solo quello materno, che nelle loro genealogie menzionavano solo gli avi materni e la classe sociale dei figli veniva definita solo in base a quella della madre. Riporta ancora Erodoto che l'eredità del re Sarpedone andò di diritto a sua figlia Laudamia, anziché ai figli maschi. Nicola Damasceno ricorda che solo le figlie potevano ereditare e Strabone che i cantabri ricevevano una dote dalle sorelle. Tacito riferisce che tra i germani il ceppo familiare continuava tramite la sorella. Il diritto materno, conclude Bachofen, dunque non riguarda certi popoli, bensì una fase di civiltà che precede il diritto paterno. La tradizione mitica, scrive ancora, è la fedele espressione della legge di vita di un'età ginecocratica, la base dello sviluppo storico del mondo antico e una fonte storica autentica e attendibile. E questo detto da uno storico. Prosegue Bachofen, elementi antichi sono repressi dai nuovi, denominazioni femminili divengono maschili, insomma frutti di concezioni materne cedono alle esigenze di una teoria generata dalla paternità. Ma, afferma Bachofen, senza conoscere le origini, la conoscenza storica non può arrivare a conclusioni. La ginecocrazia reca i segni di una compiuta fase di sviluppo dello spirito umano. La sovranità in famiglia del principio materno non è un fenomeno isolato. Connaturato al principio materno, precisa Bachofen, è il particolarismo, invece a quello materno l'universalità. Il principio paterno restringe l'appartenenza a un solo gruppo. Il principio materno non conosce esclusivismo, più di quanto faccia l'ecosistema. Dal principio della maternità generatrice deriva la fratellanza universale di tutti gli esseri umani. Il grembo di ogni donna è immagine mortale della madre terra. E la terra natia conoscerà solo fratelli e sorelle, finché col sistema patriarcale l'unità della massa sarà infranta. Materno è quel principio di universale eguaglianza e libertà che ricorre nella vita dei popoli ginecocratici, famosi per l'assenza di lotte intestine e per il ripudio di ogni disturbo della pace. Esiodo parla di antiche stirpi di donne la cui scomparsa fece sparire la pace dalla terra. Le matrone galliche furono chiamate a dirimere le controversie nella lega di Annibale coi galli. In tante tradizioni antiche le donne amministrano la giustizia, votano nelle assemblee popolari, impongono a schiere di combattenti di arrestarsi, mediano la pace e ne fissano le condizioni. Il genere umano, scrive sempre Bachofen, ha vissuto destini più alti di quanto la nostra immaginazione possa figurarsi. Le basi religiose della ginecocrazia fanno apparire il diritto materno nella sua forma più degna, lo collegano ai lati più elevati dell'esistenza, esibendo la grandezza dei tempi primordiali. Alla superiore forza fisica dell'uomo, sostiene ancora Bachofen, la donna oppose la sua superiore sensibilità religiosa al principio della violenza, quello della pace, allo spirito di competizione, lo spirito di conciliazione, all'odio, l'amore. Così la donna seppe guidare l'esistenza selvaggia, fuori legge dei primi tempi, verso quella forma di civiltà più mite e calma, nella quale essa troneggerà come incarnazione della legge divina. In ciò sta il potere magico delle figure femminili. La ginecocrazia, dice ancora, si lega ai misteri della religione ectonia. L'utero si presenta quale espressione del mistero della dea Demetra diviene espressione del matriarcato nella sua forma sociale. La fede, la giustizia e tutte le specifiche qualità umane hanno nomi femminili. Dalla donna dipende il primo sviluppo del genere umano, il primo progresso verso la civiltà e un'esistenza regolata e in specie la prima educazione religiosa. Dalla donna dipende il godimento di ogni bene superiore, in lei, prima che nell'uomo, si destò l'anelito ad affinare l'esistenza. E' opera sua l'intera civiltà che seguì alla prima barbarie, suo dono oltre alla vita e ogni gioia della vita. La ginecocrazia appare come testimonianza del progresso della civiltà. La ginecocrazia, nel proceder dalla maternità generante, che è nell'immagine fisica, sentì l'unità di tutto il mondo vivente e l'armonia dell'universo e la collegò al grembo generatore, all'amor materno che tutto accoglie, preserva e nutre. Il dominio politico e domestico della donna resta intatto a lungo, dice lui, ma pure tale dominio doveva ridursi via via. Dunque, sostiene Bachofen, la storicità del matriarcato è irrefutabile. Ma poi, ahimè, Bachofen, contraddicendosi, cambia improvvisamente rotta e dopo aver esaltato la società ginecocratica primordiale, conclude abbracciando entusiasticamente gli stereotipi patriarcali, ossia l'umanità deve la vittoria del patriarcato all'idea di Stato di Roma che gli diede rigorosa forma giuridica, fondando su di esso l'intera vita immune alla decadenza della religione e alla corruzione dei costumi e alla ricaduta, dice lui, come fosse una malattia, dell'anima popolare in concezioni ginecocratiche. Bachofen parte dalla convinzione che la storia della razza umana è determinata dalla battaglia dei sessi, ora, invece, sappiamo che non è così. Lo studio dei pitogrammi e dei resti archeologici dell'epoca matrifocale dimostrano che l'idea di battaglia non era concepita, come pure errata, l'idea di Bachofen che il matriarcato fosse il dominio delle donne sugli uomini, perché pure il concetto di dominio è solo patriarcale. Anche Meret Fellman dell'Istituto per la Cultura Popolare dell'Università di Zurigo commenta che tutti e tre i tipi di donne nel modello a fasi proposto successivamente da Bachofen, ovvero la cortigiana addetta solo al piacere, la madre addetta solo alla procreazione e la mazzone addetta solo alla vendetta contro il maschio, corrispondono alle idee stereotipe del sesso maschile nei confronti della donna. E finalmente arriva Maria Gimbutas a darci chiarezza e prove che perfino gli storici dovrebbero accettare poiché non si tratta di teorie ma di reperti archeologici. Maria Gimbutas nacque in Lituania nel 1921 e dopo molte vicissitudini tra cui la fuga dall'Europa giunse a insegnare alla Iucla l'Università di Santa Barbara in California. Maria è l'archeologa responsabile di una visione totalmente nuova riguardo la preistoria europea dopo un primo periodo di difficoltà dovuto all'impostazione rivoluzionaria delle sue teorie e al fatto di essere una donna lei furono accordati fondi per scavare e questo le permise di suffragare concretamente le sue teorie che furono poi fonte di ispirazione per i movimenti di emancipazione delle donne. Attualmente è considerata un punto di riferimento e non solo tra gli addetti ai lavori in campo archeologico e antropologico. Cominciò a scavare in quella che chiamò l'antica Europa che andava dall'Italia meridionale a tutta l'area balcanica seguendo il corso del Danubio fino alla sua foce nel Mar Nero. In quelle terre e in quell'arco di tempo trovò almeno 500 statuette della grande Dea Madre che confermavano la sua teoria inerente a una millenaria cultura matrilineare e matrifocale prepatriarcale pacifica ricca ugualitaria e incentrata sul ruolo sacro delle donne datrici di vita sbrigativamente bollata dalla storia ufficiale come preistoria. Maria ci dimostra che la prima divinità adorata da tutta l'umanità fu una monoteistica Dea Madre partenogenetica la natura la terra ma anche il cosmo il cielo stellato e il sole insomma la vita intera. Questa meravigliosa ed evoluta società matrifocale ma potremmo dire matriarcale sedessimo alla parola il suo giusto significato etimologico dove archè non significa dominio ma origine quindi matriarcato diventerebbe origine materna e si lega quindi a quel diritto materno di cui aveva parlato Bachofen questa società fu irrimediabilmente minata dalle invasioni di popoli guerrieri armati e a cavallo provenienti dall'est dal Caucaso e dagli altipiani della Mongolia nel terzo millennio avanti Cristo che Maria Gimbutas ha chiamato Kurgan i quali sdoganarono la cultura della morte violenza razzia e stupro della servitù e della schiavitù in tre successive ondate furono assoggettate le pacifiche comunità native dell'antica Europa che non conoscevano la violenza o la lotta e non furono in grado di difendersi poiché non avevano armi né fortificazioni come dimostrano ancora una volta gli scavi archeologici relativi a quell'epoca ed è proprio questo che la storia patriarcale nonostante l'evidenza delle prove preferisce ignorare continuando a cercare altre versioni meno imbarazzanti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti